Ciao a tutti della Piazza della Rossa, 3, 3 a 0. Spettacolari, like lo sapete, condivisione lo sapete, iscrizione lo sapete, commento lo sapete, capone lo sapete. Ragazzi, che spettacolo. Si dice da un anno a questa parte, mamma cinema, e c'è un motivo, lo spettacolo del ceravo. Ragazzi, sì, 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 3 a 0. Inaspettato, io ero pronti per uno 0 a 0 che mi stava anche bene, perché nel senso parliamo di una squadra super esperta della serie A, ha retrocesso soltanto perché ha avuto uno spareggio, quindi fate voi. Che dire, che dire ragazzi, hanno peccato forse di ingenuità nel secondo tempo, il fattore evento ha aiutato, ma noi lo conosciamo il nostro evento, Vivarini lo conosce il nostro evento. Infatti noi siamo sempre stati anche nel primo tempo con palla bassa, con il nostro gioco. È inutile fare lanci lunghi, che è successo infatti? Che è successo? Che loro con due o tre lanci così lunghi hanno preso dei gol. Ragazzi, è una meraviglia. Parlerò domani dell'espulsione di Oliveri, ragazzi, 20 anni, non lo giustifico, però ha 20 anni, fate voi, giudicate voi se volete. È giusta l'espulsione? È inutile comunque, il 95esimo. Vabbè, nota negativa su questa grande partita, grande prestazione. C'è da dare una nota di merito a un certo Fulz, Fulignati, che secondo me non dico se invece ha fatto vincere la partita. Che dite? Perché comunque l'1-0 fuori in casa contro lo Spezia per loro sarebbe stata un pochino più tosta la situazione. Invece lui ha parato il rigore, ha calciato Maremoro, ma lui ha parato, intuito, ha bloccato. Fulz, grande, tra i migliori in campo, assolutamente. C'è da dire ognuno di tutti, Maremoro piano piano sta rientrando con la forma, ha fatto l'assist per il primo gol di Biasci. Quindi è quello che vi dicevo, lui rientra dietro e lui fa sempre questi lanci, ha messo le fasce ad aprire il gioco. E da qui ne è venuto il gol. Il secondo, su un altro gol però, visto che abbiamo sfruttato appunto un po' il vento, quell'altro gol di Nicolao, Dragoschi non ha potuto fare niente, 2-0. E poi in scioltezza è entrato dopo qualche minuto il nostro Pompetti, che ha fatto un gol della madonna. Tira, 25 metri, paolo, gol, ha sfruttato il vento. E così, ha sostituito un, anche che insieme a me è stato migliore in campo, che ho un flash, sto prendendo, ah Pontisso, ho perso un attimo, dall'entusiasmo ho perso un attimo il nome. Grande partita di Pontisso, credo di dargli il migliore in campo, ha dato personalità, non me l'aspettavo da Pontisso. Bravissimo, bravissimi, bravissimi tutti, comunque c'è da dire, bravissimi tutti. Scitum, concreto, non ha sbagliato niente, non fa mai cose esagerate, eccessive. Grandissimo, che spettacolo. Scogliamillo, che ho sbagliato la pronuncia l'altro giorno, scusate, ma può succedere. Grandissimo, da lì è stato il primo gol partito anche da lui, perché ha fatto degli interventi che hanno permesso appunto di prendere palla a Iemmello, che poi ha aperto verso Biasci. Grandissimo anche Scogliamillo. Millo, sbaglio sempre. Tomasino Biasci. Tomasino Biasci è incredibile, ha dato polmone, polmone, tutto, ha dato tutto quello che poteva. Un gran gol, veramente, l'ha messa all'angolino Dragoschi, non poteva fare assolutamente niente. E che dire? Un pubblico, ragazzi. Hanno detto, hanno detto l'altro giorno che il Prato, il manto erboso del Ceravos in barra della Champions League, ed era vero, è stato un colpo di immagine bellissimo, con tutto lo stadio pieno, i tifosi che hanno cantato. tifosi siete impazziti. I nostri ultra sono impazziti, hanno cantato tutto, tutto, tutto il tempo, tutto il tempo. 4.800 bonati. 4.800 bonati è il record proprio di sempre. No? Dove vai? Te è bellezza. Te sei bellissima. Te sei bellissima. Ragazzi, io sarò onesto 3-0, non credevo. Cioè, ci potremmo sperare una vittoria, perché comunque è legittimo, in casa, sappiamo il nostro potenziale. 3-0 così, no. Questo spezia è un po' strano. Il loro mister ha parlato che comunque settimana scorsa non hanno giocato, per via che l'Ecco e Reggiana non sono ancora, scusate, l'Ecco e Brescia non sono ancora state ammesse, invece da oggi sì. Quindi comunque loro hanno perso, a detta del mister Alvini, hanno perso, diciamo, quell'equilibrio e quel ritmo che secondo lui ci doveva essere. Non gli dò torto, sinceramente. Però mi aspettavo di più. Mi aspettavo di più della spezia, ma ben venga per noi, assolutamente. Che dire, io... Sempre... È un bene. Questi punti vanno fatti subito, il prima possibile, perché, ragazzi, testa bassa, testa alta, quello che volete, ma testa giusta, sempre, perché comunque l'obiettivo, lo sappiamo, è la salvezza. Abbiamo preso quattro punti da Neoretrocesse, il che non è male, anzi, è ottimo. Quindi Cremona è ora qui contro di loro. Ci aspettano tutte difficili, perché a breve abbiamo sia Barri che Parma, e sappiamo cosa stanno facendo in questo campionato. E... Che dire, io... Ditemi la vostra. Ditemi la vostra, io sarò ben contento e ben felice di rispondervi. Grazie, domani è il 31, siamo a 15 iscritti dai 100. Iscrivetevi, fatemi questo favore. Festeggiamo questa vittoria, questo 3-0 con i 15 iscritti, fatemi il suo piacere. Non siete obbligati, io... Mi fa il suo piacere tutto qua. E... Niente, dai, io vi lascio. Allora, come sempre, condivisione, iscrivetevi, commentate, like, campanella, e non mi ricordo più. Ciao, tagli e aquile, forza!